Dovrà rimanere impercorribile tranne che per i veicoli autorizzati un tratto della via Ludovico corrà, ossia l'ex via per Monte Bonifato, in attesa che si attuino gli interventi di messa in sicurezza. L'allarme era scattato sabato scorso quando l'ennesimo crollo di un albero sulla strada durante forti raffiche di vento aveva fatto riaccendere i riflettori sui pericoli di questa fetta di territorio già devastata da incendi e dove si sta cercando di prevenire ulteriori cadute di massi come quella già avvenuta a novembre che aveva sfondato un'abitazione. Il crollo dell'albero avvenuto circa una settimana fa non ha fatto registrare alcun ferito per fortuna ma comunque rappresenta una chiara emergenza sulla strada che collega la riserva naturale Bosco d'Alcamo sul Monte Bonifato con la città di Alcamo. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile comunale a seguito di segnalazioni di residenti nella zona. Pertanto ieri è stata emanata un'ordinanza da parte del Corpo di Polizia Municipale che stabilisce la temporanea chiusura della via Ludovico Corrao, dichiara il comandante Ignazio Bacile, dal numero civico 184 fino al piazzale Fontanazza per tutti i veicoli a parte quelli delle forze dell'ordine di emergenza e soccorso, i veicoli dell'igiene urbana e dei residenti fino alla corretta messa in sicurezza del tratto interessato. Nell'ordinanza si fa riferimento infatti agli effetti dei forti venti di burrasca su tutto il territorio comunale il 10 febbraio scorso e che hanno causato disagi alla viabilità comunale principalmente per la caduta di alberi o di loro parti in via Ludovico Corrao dal numero civico 184 sino al punto situato a monte del numero civico 203. In particolare nel testo dell'ordinanza è riportato che per accertarsi dello stato dei luoghi è stato effettuato il 12 febbraio un sopralluogo del tecnico comunale per la protezione civile congiuntamente al geologo incaricato di supporto al COC. Ed è emerso che dal numero civico 184 per una lunghezza complessiva di circa 150 metri si evidenzia una porzione sul lato ovest costituita da una scarpata alta da 2,50 fino a 5 metri per una lunghezza di circa 47 metri con evidenti problemi di rischio di crollo di blocchi calcare in corrispondenza dei quali si sono verificati crolli di rami sulla sede stradale. Inoltre si rileva la condizione di potenziale rischio di crollo di alberi lungo lo stesso tratto stradale all'altezza del civico 201. Pertanto ad oggi prosegue l'ordinanza si ritiene necessaria una verifica per la messa in sicurezza degli alberi presenti nel tratto interessato. È urgente inoltre la rimozione dei rami tagliati depositati lungo il ciglio della strada. Della necessità urgente di affrontare in modo più organizzato le problematiche in tema di salvaguardia e recupero del Monte Bonifato e della riserva naturale Bosco d'Alcamo continua a farsi interprete il sindacato UGL il cui esponente locale Giuseppe Senia aveva già chiesto e ottenuto un tavolo tecnico in municipio lo scorso mese. Tavolo tecnico al quale però come ha lamentato lo stesso Senia si è presentato assieme a lui soltanto l'assessore comunale Alberto Donato e non gli altri rappresentanti delle istituzioni preposte. Grazie a tutti.